Fase di commento, io non credo che la partita cambierà, insomma ormai si è messa sul 3-0 e questa non è la Roma dell'andata, una Roma che in pochi minuti è in grado di ribartare su sfavore nella partita, questa è una Roma finalmente con una bella difesa protetta, quadrata e ha giocato bene oggi, oggi ha giocato molto bene, quasi me la stai, sì e quindi possiamo dire, la miglior Roma degli ultimi due anni, oggi ha fatto una partita veramente perfetta sotto il punto di vista difensivo ho visto due o tre diagonali chiuse proprio a meraviglia anche quando ci è sguido, tutte e due le fasi, molto bene ho visto anche un Justin Clivert che si è applicato molto, sia in fase difensiva sia ha messo delle pallette ancora quegli errori un po'... però piano piano è giovane, giocando vedrete che insomma Pastore, Pastore ci ha stupito Ragneri e ha pescato i jolly, che glielo vuoi dire? si guarda, Pastore e il Caccio, il Caccio si è dato fiducia, perchè oggi sembrava non essere giocato, vabbè diciamo che gli ha dato fiducia anche perchè non è rimasto più nessuno, stanno tutti gli infermieria, c'era quello col cerchietto c'era, c'era quello col cerchietto certo, però ti dova cambia schema e tutto quanto, attenzione c'è una posizione, va a tappiando il culo, molto bene era sempre Fazio, Eric Adlander c'era l'altra volta, Fazio da quando c'era ieri è tornato un giocatore dei padroni diciamo che è proprio la difesa che è cominciata un difensore che controlla si dice da pure a fantacarci per cui, Kodrov ha segnato, che è il nono gol, che è il nono gol, che è il nono gol, che è il nono gol del genere 8-9 Kodrov, 8-9 gol, quindi è un signore attaccante e quindi niente, va tutto bene, allora io dico questo o me portate Antonio Conte, oppure non cagate il cazzo, perchè l'allenatore ci sta non servono a Piazzi Pilosa, Pissigeni, si Giampaoli, si Gasperini, lasciateli indostarne che lì stanno bene, lì rendono in provincia quindi, o me portate l'allenatore con i controcassi, oppure l'allenatore ci sta e sta là un saluto è sempre caccio faccio, un saluto dal nuovo youtuber ma le pagelle e i miei papà le papà e i miei papà, dai, Mirante Mirante, Santolla no, come Santolla i voti che vi dà? eh, Mirante basta, basta, ti facciamo un altro video